Ciao amici, sono Anna Paola Tamburini di T-Cirina Box e sono qua con Paolo Baccolo che è passato da casa mia, quindi stavolta la intervista a Skype non la facciamo, la facciamo in diretta. Quindi vorremmo raccontarvi un po' di cosa tratta il nuovo corso di aggiornamenti CC per Premiere Pro che è stato proprio fatto da Paolo. Siamo nella versione CC 2014, quindi da qui in avanti non ci stavano più gli aggiornamenti una volta ogni anno, anno e mezzo, una cosa del genere. Ma saranno aggiornamenti continui che seguivano gli aggiornamenti dei prodotti Adobe, quindi questo aggiornamento sarà quello del 2014, è appena stato annunciato per ABC un importante aggiornamento, quindi anche quello già in cantiere per la sua realizzazione, quindi sarà un continuo. Non è più una versione di prodotto, ma sarà un continuo aggiornamento. Infatti proprio per questo motivo non facciamo più il videocorso in versione DVD perché sarebbe impossibile da aggiornare. Perché chi ce l'ha più il DVD? Ci sono persone che ancora lo acquistano perché proprio nella loro zona, per esempio, non arriva una buona connessione. Anche a casa mia. Come a casa mia, per esempio. Esatto. E dicevo non sarà più in versione DVD, ma esisterà come abbonamento e come app. Entrambe questi prodotti verranno aggiornati e quindi man mano che usciranno delle novità di questo software provvederemo a fare le lezioni delle cose più chiaramente utili e importanti. E quindi adesso troverete disponibili tutte le novità da quando è uscita la versione CC a oggi. Ieri, adesso. E per le persone che non sanno, questo lo stiamo registrando a settembre 2014, quindi proprio due giorni fa hanno annunciato le novità all'IBC, come diceva Paolo, e quindi fino a quel punto lì ci sono già tutte le novità. Adesso iniziamo a lavorare su quelle nuove. Sarà un continuo, un continuo aggiornamento. Bene, quindi consultate la pagina del sito per vedere tutte le lezioni che compongono il corso. Potete vedere anche delle lezioni dimostrative gratuite. Sempre sul pezzo. Sempre aggiornati. Ok, sempre aggiornati. E grazie a tutti. Indovinate chi era questa? No! Anna Paola da giovane. Indovinateve. E va lei, e va lei, e va lei, e va lei. Basta. Non si fa, non si cose, mai pioca la mia. A ver, ma è stata rara. Ha, ha, ha! Non si fa, 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 non